Salve e benvenuti al nostro amico libro che oggi vuole tessere dei fili o forse è meglio seguire un filo, è nota l'espressione il filo di Arianna, oggi parleremo di un altro filo che si collega a quello di Arianna ma procedendo con un qualche ordine in questa varietà più o meno disordinata partiamo dalla Sacra Scrittura, Nuovo Testamento Giovanni. Nella collezione nuove versioni della Bibbia dai testi antichi della San Paolo abbiamo presentato molti volumi di questa collezione quindi ci siamo già intrattenuti sui criteri di edizione, appunto la traduzione leggermente variata rispetto a quella canonica in uso anche nella liturgia, quella della CEI per intenderci, introduzione, note eccetera. Ecco, in questo caso Giovanni, introduzione, traduzione e commento a cura di Renzo Infante e come dicevamo le nozioni essenziali intanto sull'autore, chi è Giovanni? L'apostolo? L'anziano? Un terzo? Qui si parla solo del Vangelo di Giovanni ma la questione giovannea, come viene chiamata, diventa ancora più complessa e complicata se teniamo conto anche degli altri scritti che vanno sotto il nome di Giovanni, cioè le lettere, le tre lettere e l'Apocalisse. Poi lo schema, i contenuti teologici di Giovanni che come si sa, si differenzia dai tre sinotici e qui abbiamo sotto gli occhi, ci facciamo subito un'idea, vedete? Il testo greco, la traduzione italiana, le note e più sotto ancora un discorso più completo, più organico sui temi che l'Evangelista va sviluppando. Alla fine poi c'è sempre in questa collezione, ripetiamo, di cui abbiamo presentato molti volumi, c'è un capitolo particolare che chiude il volume, il Vangelo di Giovanni nell'odierna liturgia e appunto siccome i tre anni del ciclo festivo A, B, C viene a mano a mano, vengono utilizzati i Vangeli di Matteo, Luca e Marco, Giovanni trova una collocazione particolare nel Triduo, in qualche domenica dell'anno di Marco che dottoriamente è il più breve e poi quali sono i temi della gloria, della testimonianza, il carattere, la redazione particolarmente elaborata di Giovanni ed è una nota firmata da Matteo Ferrari, monaco di Camaldoli. E dal Vangelo alla spiritualità, al monachesimo femminile e profezia di Mariella Carpinello, l'azione ecumenica di madre Maria Pia Giullini dalla Cantagalli di Siena. Ed è un volume, chiaramente una biografia, ma quello che importa è l'approfondimento, come dice il titolo, il sottotitolo, sia della peculiarità della vita monastica che quella della profezia, cioè annunciare il regno futuro già come anticipato in qualche modo vissuto nella vita religiosa e poi soprattutto l'azione ecumenica. Siamo ancora negli anni dei primi passi dell'ecumenismo, dove ancora non è ufficializzata la posizione della Chiesa Cattolica. Quindi, diciamo così, questa sorella Maria Pia Giullini è una pioniera insieme ad altri che incontrano i fratelli separati, come venivano chiamati, e preparano il terreno per l'azione ecumenica che adesso è in pieno svolgimento. È una visione ampia di quello che avviene nella prima metà del Novecento, che troverà poi il suo coronamento nella ufficializzazione del dialogo ecumenico nel Vaticano II, eccetera. E veniamo a un volume della classicità da Olski, anche di questa serie abbiamo presionato altri volumi, la commedia all'epoca di Enrico III, seconda serie, volume settimo, 1576-1578. Quindi vedete appena tre anni e quindi è una collezione molto ampia che già ha dato molti volumi e altri ne prevede per questo teatro francese della Rinascenza. E in questo caso ci sono tre autori, vengono presentati uno per uno, le loro vicende biografiche, rapporti se ce ne sono stati, il clima politico, l'ambiente religioso. Ricordiamo che siamo all'indomani del protestantesimo e della riforma cattolica e queste commedie risentono in qualche modo anche di queste polemiche, di questi tempi tumultuosi della nuova religione, il protestantesimo e qualche volta si avverte, come dire, quasi un gioco di nascondimento degli autori che non lasciano percepire chiaramente qual è la loro posizione perché ancora i tempi erano pericolosi, c'erano ancora scontri tra cattolici e eugonotti in Francia, erano guerre di religione. Qui vediamo un frontespizio, commedia degli amori di Teseo e di Anira e una commedia di Gérard de Gantoin e sono scritti che sono arrivati a noi perché erano molte volte i canovacci della commedia rappresentata, vedete sono anche abbastanza ampi con qualche nota di commento che ci danno appunto un'idea di questo clima letterario ma anche dello sfondo politico e religioso. Di argomento culturale, del dibattito culturale, si occupano due notissimi intellettuali, Edgar Morin e Tariq Ramadan, il pericolo delle idee da Erickson di Trento. Il titolo originale in francese, al pericolo, al rischio delle idee rende meglio forse appunto l'idea di questo dibattito lunghissimo, due giorni interi che qui vengono riprodotti con la mediazione di un moderatore che stimola, pone delle domande, chiede chiarimenti, Claude Henry Dubois che introduce naturalmente gli argomenti. Sono gli argomenti più vari. Intanto ricordiamo che Edgar Morin, grande intellettuale francese di origine ebraica, agnostico, mentre Tariq Ramadan è musulmano convinto ma di famiglia marocchina, ma ha formato e vive a Londra, in Europa, viaggia eccetera. Ora dico sono due grandi intellettuali, vedete gli argomenti, le donne, fede e ragione, la democrazia, la questione palestinese, il fondamentalismo ed è un dialogo molto civile, molto educato dove però qualche volta Edgar Morin esula dalle sue competenze pure notevolissime, allora dice delle cose non precise sui Vangeli, sulla figura di Gesù Cristo, sulla fede cristiana. Lui si professa, oseremmo dire, orgogliosamente agnostico, ma qualche volta esce un po' fuori del suo campo, come dire, sutor, neultracrepida. Anche Tariq Ramadan, che è normalmente rispettoso, però sorvola un po' sui limiti dell'Islam e sulle violenze storiche che anche l'Islam ha compiuto e ancora più tragicamente sta compiendo oggi. Praramente Tariq Ramadan si lascia andare a qualche critica, come dire, dall'interno dell'Islam. E veniamo a un bellissimo volume di Maurice Materling, è un belga, scrive in fiammingo, La saggezza e il destino da Elliot. Maurice Materling è stato scrittore, poeta, drammaturgo. E in questo scritto, che viene poi arricchito da una postfazione, crediamo, non memorabile, di Rainer Maria Rilke, passa di argomento in argomento, come dice il titolo, La saggezza e il destino, quale deve essere l'atteggiamento dell'uomo che inevitabilmente è condizionato, condizionato dall'ambiente, condizionato dalla storia, dagli altri, ma lui deve opporre a questo destino una saggezza di comportamento. Allora, molte volte, come abbiamo qui sottolineato, si riferisce anche agli autori classici, come Antonino Pio, che hanno dato esempio di moderazione, esempio di equanimità, come forza contro il destino, pensiamo al caso di Amleto, di Shakespeare, e via di questo passo, dove l'intelligenza, la volontà, ma anche l'elevazione mistica, qui abbiamo sotto gli occhi una citazione di Adeveik e di Reisbrook, sono i fratelli e le sorelle della vita comune, siamo alla devozio moderna, alla mistica fiamminga, e a mano a mano riferimenti ricchissimi alla letteratura, alla poesia, alla religione per questa tesi. Quindi, ripetiamo, siamo tutti condizionati più o meno dal destino, ma dobbiamo opporre un atteggiamento forte e saggio. Il saggio impara ad animare e amare la silenziosa sostanza della vita. Guardate che sono affermazioni, altro che aforismi, sapientissimi. Il saggio impara ad animare e amare la silenziosa sostanza della vita. La gioia fedele è soltanto in questa silenziosa sostanza. E non sono le felicità straordinarie che osano accompagnarci fino alla tomba e via di questo passo. Uno dei pochi libri, confessiamolo, che abbiamo letto per intero, perché normalmente siamo costretti a rincorrere i libri, questo invece ce l'abbiamo letto per intero e vale veramente la pena. E veniamo a un'altra sezione, in questo filo, dall'Indao, un bel volume di Bernard Lewis, La sublime porta, Istanbul e la civiltà ottomana. Abbiamo detto, poc'anzi, che Tariq Ramadan, musulmano convinto, ma che conosce bene anche la cultura occidentale, ed è un uomo di dialogo, è piuttosto reticente nel denunciare certi limiti della storia della cultura musulmana. Sione la sublime porta quasi una traduzione di questa nobiltà. Ed è una storia della grande civiltà musulmana, ottomana, turca, fino alla dissoluzione e tiene conto anche delle guerre, dell'intolleranza, della tendenza a trattare gli altri come sottomessi, ma sottolinea in modo particolare, anche con lunghe citazioni. Qui, per esempio, ne abbiamo una da Ottaviano Bon, che descrive il divan, il grande divano, è appunto la sublime porta, ma anche chiarisce il senso dell'Arem, per esempio, che non è quello su cui hanno fantasticato gli occidentali, un luogo di piacere pieno di belle donne, ma era la residenza privata del sultano che doveva guardarsi dai pericoli esterni ed interni. Qui abbiamo una lunga citazione di un poeta settecendesco, Nabi, non esiste luogo dove conoscenza e cultura trovino una migliore accoglienza di Istanbul. Nessuna città ha provato i frutti del giardino dell'arte con gusto simile alle città di Istanbul. Che Dio permetta a Istanbul di fiorire perché in essa accadono grandi cose. Hagia Sofia, la basilica cristiana diventata tempio musulmano, diventata moschea musulmana, la meraviglia dei tempi, la sua cupola, l'ottava delle sfere celeste. Se non fosse stato per tutte le varie malattie, se non fosse per la maledetta peste, chi lascerebbe mai questo luogo paradisiaco, questa città che spazza via il dolore, eccetera. Qui un'altra citazione di un cronista, Ashik Pashasade, quando il sultano Mahometto Kangasi conquistò Istanbul, eccetera. Ripetiamo, è una storia dove non vengono ignorati i lati oscuri della sublime porta, le guerre, le persecuzioni, le vendette, ma soprattutto si sottolinea l'arte, la poesia. Qui abbiamo sotto gli occhi l'ode alla primavera di Bacchi, o di Lusignolino, come in suo canto dice, anche il tempo felice. Vedete, possiamo inquadrare, sono citazioni molto ampie che danno un'idea anche di queste composizioni poetiche. Or giovano riso, concerto e danza, apri a Letizia l'animo, breve sui colli in pera, la dolce primavera. Son rosa e gelsomino, gote di giovinetta, in calza stagionfera, la dolce primavera. Questo ritornello che troviamo anche nella poesia rinascimentale, quant'è bella giovinezza che si fugge tuttavia, potremmo commentare. E veniamo a questo libretto della Castelvecchi di Mark Bloch Che cosa chiedere alla storia? A cura di grado Giovanni Merlo e Francesco Mores. Abbiamo presentato recentemente un altro libretto, una conferenza in pratica di Mark Bloch sull'idea imperiale germanica. Questa volta invece che cosa chiedere alla storia? Sono lezioni tenute a Strasburgo. Mark Bloch insieme a Lucien Fevre ha fondato le Annal, ha combattuto nella Prima Guerra Mondiale, nella seconda poi ha partecipato alla Resistenza, catturato e vergognosamente torturato e fucilato dai tedeschi nazisti. E qui un'altra bella lezione. Che cosa chiederà la storia? Non soltanto notizie, avvenimenti, ma anche l'ambiente culturale e spirituale dell'uomo. Ancora una bella lezione di questo grande storico, anche grande patriota. Dalla Clueb di Bologna, contadini e agricoltura in Europa, nella Prima Età Moderna, 1450-1650, di Franco Cazzola. Vedete in copertina un'immagine tipica da Hieronymus Boss, una festa contadina, e qui fa vedere come comincia a risvegliarsi negli ambienti contadini una qualche attenzione alla qualità della vita, alla diversificazione delle produzioni, ma anche le ricorrenti carestie, le pesti, le guerre che purtroppo infestavano, distruggevano. Possiamo immaginare questi eserciti che passavano, depredavano e provocavano la fame, praticamente lo sterminio di intere popolazioni. Il periodo è 1450-1650. Pensiamo per esempio ai 30 anni 1618-1648 della grande guerra che si sviluppa in Europa tra cattolici e protestanti che provocava distruzioni, incendi dei villaggi, eccetera. Quindi un periodo drammatico, insieme a qualche segno di modernità, i disastri delle guerre, in particolare delle guerre di religione. e veniamo vicino a noi, dalle paoline, Roberto Mistretta, Rosario Livatino, l'uomo, il giudice, il credente, in collaborazione con Giuseppe Livatino, il fratello. Questo giudice che ha avuto l'infelice espressione di Cossiga, presidente, il giudice ragazzino, che non era affatto un ragazzino. È stato un giudice che si è formato, che ha cominciato a lavorare duramente, con coraggio, che non si è nascosto e perciò è stato rapito e ucciso dalla mafia. Qui vediamo alcune immagini della sua attività, la macchina crivellata di colpi, l'incontro dei genitori con Giovanni Paolo e poi, come sempre, succede quando finalmente lo Stato si rende conto, alza monumenti e attacca delle targhe. E veniamo alla Carocci. Non ci stancheremo di presentare questi splendidi volumi della biblioteca medioevale. In questo caso Charles d'Orléans e i poeti di Blois rondò di conversazioni, ma ogni volta dobbiamo ricordare che purtroppo questi bei volumi sono penalizzati dai caratteri piccoli, quasi illegibili. Charles d'Orléans ha combattuto contro gli inglesi, siamo nel 400, viene fatto prigioniero per 25 anni, e prigioniero in Inghilterra, poi finalmente torna in Francia e qui si riproducono appunto questi rondò di conversazione, questi dialoghi a distanza tra poeti, uomini di corte, eccetera, donne, dadi, gioco, taverne, molte volte con titoli, con linguaggi anche molto volgari, molto forti. Figlia mia che vi confessate, qui viene preso in giro un religioso, figlia mia che vi confessate, vogliate avere compassione di colui che serve lealmente e che è interamente vostro, senza infincimenti. E sentiamo la risposta a questo rondò di un poeta, la risposta di Charles d'Orléans. Buon padre, ecco, prima c'è la ragazza che si confessa, è il confessore che dà certi consigli. Sentiamo la risposta. Buon padre, beneditemi, vi chiedo di confessarmi e con umile contrizione il mio peccato sarà raccontato. Rifiuto ha dilettato il mio cuore, ne darò soddisfazione. Impartitemi la soluzione e assegnatemi la pena, per carità, buon padre, eccetera. E via di questo passo, come sempre, questi bei volumi hanno una ricca introduzione per illustrare il periodo, le personalità dei poeti, poi seguono i testi nell'originale francese, in questo caso, ma ripetiamo, siamo nel Quattrocento, quindi presentano qualche difficoltà di lettura, e di fronte la traduzione italiana, a cui seguono ancora ricche note esplicative. E veniamo al volume che ha suggerito il titolo, dalla Levante Editore, in questa bella collezione, che comincia ad affiancare altre collezioni, vedete questo segno tipografico, et, in alto, volumi oltre collana, questo è il terzo volume dell'anno in corso, il filo di Ipsipila. Metastasio è la tradizione classica, riproduzione di un bel manoscritto medioevale in copertina. Ipsipila è legata al mito di Teseo, e quindi il filo di Arianna più famoso, questo è il filo di Ipsipila, e in particolare Metastasio, che tutti ben conosciamo, autore, fortunato, di bellissimi libretti nel Settecento, riprende la tradizione classica, perciò Metastasio è la tradizione classica, quindi abbiamo anche riproduzioni di testi, come in questo caso, in greco, oppure dalla tradizione latina, oppure altri volumi del medioeo. Qui vediamo, per esempio, una silografia da De Munieri Busclaris, famose donne di Boccaccio, e via ancora di questo passo. In questo caso, invece, l'inizio di un'aria, quindi anche la musica. Quindi, come vedete, una trattazione molto ampia di cui vogliamo dare un'idea scorrendo la tavola delle materie. Allora, Metastasio è la principessa di Lemno, appunto Ipsipila, poi gli Argonauti, l'opera metastasiana che viene rappresentato, e finalmente, affacciandoci alla modernità, la Ipsipila di Benito Antonio de Sespedes. E, andando avanti, un romanzo da stampa alternativa di Viterbo, di Graziano Mantiloni, 1915. 1915, l'inizio, quindi, della prima guerra mondiale per l'Italia. Una guerra cominciata già nel 14, tra Francia, Germania, poi Russia, Inghilterra e Italia, appunto. Allora, questo titolo che dà l'inizio, che dà questo titolo di questo romanzo, che presenta queste vicende di una famiglia, una famiglia di contadini, dove entrano inevitabilmente le fatiche della campagna, un figlio che parte soldato e poi muore in guerra, una storia d'amore fino alla conclusione. Qualche volta abbiamo l'impressione di una certa artificiosità o di episodi che possiamo immaginare inventati per dare un po' di linfa a questa fiction, e via di questo passo. Con il vestito buono delle domeniche si sposarono all'alba, questi due giovani, la donna è rimasta vedova del primo marito, e così l'altro aspirante può coronare il suo sogno d'amore. Con il vestito buono delle domeniche si sposarono all'alba, non per vergogna, ma perché non volevano dare troppo nell'occhio. E poi perché quel momento era il più bello della giornata, nasce il sole del nuovo giorno che illuminerà il nostro futuro. Elpina si voltò indietro e vide Piancastello accovacciato sul pianoro. Seri pensava ai giorni che aveva passato nel paese dal quale scappava, non voleva ricordare quelli tristi. Lei si voltò e riprese a camminare scacciando via ogni pensiero che la legava a quei luoghi. E veniamo alla filosofia. Jacques Derrida, uno dei più noti nouveau philosophe, il suo nome è legato alla decostruzione, la carta postale, appunto la cartolina postale da Socrate a Freud e al di là da Mimesis, a cura di Luana Astore, Federico Massaglio Lucero e Federico Viri. Dopo una introduzione a sua volta preceduta, dobbiamo vederla con chiarezza, da questa illustrazione, vedete a sinistra Plato, al centro Socrate, sono i due grandi filosofi della Grecia classica, Platone che con una mano alza l'indice e con l'altra mano tocca alla spalla di Socrate, il quale scrive, ha una penna e un raschetto. Quindi Platone, invertendo i termini storici, Platone che ispira Socrate. Fronte spizio, leggiamo di Prognostica di Socrate, Basilea, opera di Matthew Paris. E abbiamo, tra i tanti riferimenti, appunto partendo da Socrate a Platone, arrivando a Freud alla psicanalisi, vedete queste illustrazioni che riprendono il tema, in questo caso Pitagora a sinistra, e poi andando avanti queste tavole antiche. Un altro inserto lo troviamo verso la fine per illustrare questa idea di questo filosofo. è un'ultimissima cartolina che Jacques Derrida aggiunge a questa ricca serie di cartoline mandate tra l'altro a una sua donna. Leggevi una lettera d'amore un po' retro, l'ultima della storia. Cosa vuol dirti una cartolina? A quali condizioni è possibile? La sua destinazione ti attraversa, tu non sei più chi sei. Dall'altra parte della carta, guarda, una proposizione ti è fatta. S e P, Socrate e Platone. Per una volta il primo sembra scrivere, mentre con l'altra mano gratta. Ma che fa Platone con il dito teso alle sue spalle? Mentre sei occupata a rigirarla in tutti i sensi, è l'immagine che ti ritorna come una lettera. essa ti decifra prima, preoccupa lo spazio, ti procura le parole e i gesti, tutti i corpi che credi inventare per circoscriverla. Tu ti trovi, tu, sul tuo tragitto. Tu situi il soggetto del libro, tra le poste e il movimento analitico. Abbiamo detto appunto, ed era nel titolo, da Socrate e Platone a Freud, e naturalmente anche la scuola o le scuole psicoanalitiche che si combattono anche nella Parigi del dopoguerra. In breve, il transfer da Socrate a Freud è al di là. Questa satire della letteratura epistolare doveva essere farcita di indirizzi, di codici postali, di missive acriptate, di lettere anonime, il tutto confidato a così tanti modi, genere e toni, abuso anche di date, firme, titoli e riferimenti, la lingua stessa. E' il gioco filosofico di Jacques Derrida, il decostruzionista. Allora, la carte postale di Jacques Derrida da Mimesis, da stampa alternativa di Viterbo, un romanzo che riprende e articola avvenimenti attorno al 1915 fino al 18. Il filo di Psipila, metastasio alla tradizione classica di Flavio Ferri Benedetti per questa nuova collezione della Levante che al terzo numero possiamo inquadrare ecco qui in basso i tre volumi già apparsi per la cura di Delio De Martino che è chiaramente il figlio del De Martino che cura molti volumi della Levante. Mentre da Carocci, Charles d'Orléans e i poeti di Blois. Da Paoline, Roberto Mistretta, Rosario Livatino, il giudice ragazzino, da Clueb di Bologna, contadini e agricoltura in Europa nella prima età moderna 1450-1650 abbiamo detto guerre e guerre di religione con conseguenti difficoltà, villaggi bruciati, raccolti, distrutti, fame e peste della popolazione. Da Castelvecchia ancora una lezione magistrale di Marc Bloch che cosa chiedere alla storia? Alla storia chiedere non soltanto date e avvenimenti ma anche il clima spirituale, insomma l'aspetto, il lato umanistico della storia. Da Lindau un bel profilo della storia dell'Islam di Bernard Lewis la sublime porta a Istanbul e alla civiltà ottomana. e appunto abbiamo detto senza ignorare i lati oscuri delle guerre, delle persecuzioni, ma in primo piano le belle arti e la letteratura con ricche citazioni poetiche. Da Elliot un volume bellissimo di Maurice Materling, poeta, drammaturgo, romanziere, la saggezza e il destino. Un procedimento quasi aforistico punteggiato da ricchissimi riferimenti culturali per illustrare questa idea. Noi siamo comunque condizionati dall'ambiente, dalla storia e dalla cultura, il destino, ma abbiamo in noi una forza, la saggezza, ragione e volontà che ci permettono di affrontare, non modificare, ma vivere al meglio quello che comunque segna la nostra esistenza. Poi, il pericolo delle idee da Erickson, abbiamo detto un ricchissimo dialogo tra un agnostico di origine ebraica Edgar Morin, di grandissima cultura, che però qualche volta, come abbiamo detto citando io, l'espressione antico, ultra crepida, come quando dà dei giudizi su alcuni momenti o alcune idee del cristianesimo, della divinità di Gesù Cristo, eccetera, è anche Tariq Ramadan, musulmano, convinto, che dialoga con la civiltà occidentale, ma che glissa sui limiti della cultura islamica. Mentre da Olski, questa ricca serie, la commedia, all'epoca di Enrico III, sono tre autori di cui si profila la biografia, le date, vedete, 1576, 1578, siamo all'indomani del protestantesimo e della rivoluzione, dobbiamo dire, della riforma e della riforma cattolica e quindi anche l'ambiente. Eravamo partiti da un volume di Sacra Scrittura per la serie nuova versione della Bibbia dai testi antichi, Giovanni. Introduzione, traduzione e commento a cura di Renzo Infante dalla San Paolo, una versione, appunto, moderna, leggermente modificata rispetto a quelli della CEI che usiamo anche nella liturgia, con le questioni sull'autore, sul titolo e ricordavamo, se qui si affronta la questione dell'autore dell'Evangelo, dobbiamo anche ricordare che la questione giovanea si arricchisce, si complica ulteriormente se pensiamo anche agli altri scritti giovanei e le tre epistole e l'Apocalisse. Mentre la Cantagalli un profilo di madre Maria Pia Gullini ma inquadrato nella sua azione ecumenica, come dice il sottotitolo, è nell'ambiente, siamo nella prima metà del Novecento, che prepara il dialogo ecumenico che oggi è felicemente avviato, sia pure con tutte le sue difficoltà. E concludiamo con due pubblicazioni periodiche. Intanto Gregorianum ci viene dalla Pontificia Università Gregoriana per i tipi della Gregorian and Biblical Press e vedete già in copertina sono annunciati gli argomenti che vanno da Babele, l'Apocalisse, l'esegesi visiva di antiveduto grammatica e quindi dalla scrittura passiamo agli esegeti ai commentatori, poi canonizzazione dei santi, cristianesimo e società civile e altri argomenti, notoriamente anche una ricca sezione di recensioni di volumi. E chiudiamo veramente in bellezza perché siamo orgogliosi di presentare il primo numero in assoluto di Apulia Teologica rivista della Facoltà Teologica Pugliese fare teologia a 50 anni dal Concilio Vaticano II e vedete gli autori già annunciati in copertina un mio Condiocesano Gerardo Cioffari Francesco Sportelli e Luigi Renna di cui sentiremo ancora parlare. Noi naturalmente siamo felicissimi orgogliosi di presentarvi il primissimo numero di questa rivista facendo gli auguri a tutti i collaboratori e al direttore che è il preside della Facoltà Teologica Pugliese vediamo se viene indicato con chiarezza direttore Pio Zuppa no c'è il direttore responsabile che è il nostro Condiocesano Vincenzo di Pilato il direttore Pio Zuppa mentre invece il preside Angelo Panzetta scrive l'editoriale Don Angelo Panzetti allora auguri alla Facoltà Teologica a questi autori a Monsignor Luigi Renna di cui sentirete parlare e anche alle edizioni deoniane di Bologna che fra altre difficoltà danno questo segno di vitalità ad molto sannos Musica